L'ultimo episodio Ma che vuoi avere stamattina? Ma che vuoi? Un latte è fritto il biscotto è tutto sbaglio Ma va a fare frutto tu io ho un latte Fanno questo ogni mattina non ce la faccio più Si moriranno per ragionare o veramente fanno morire Ah! Chi è morto? E tu ecchi di stravoli Non sentite la buzza per tutte le scale no? E perchè voi non le pulite? Ma come ti permetti? Ma come io non pulisco? E come si permette questa brutta zoccola? Oh! Ma ha chiamato zoccola! Ragioniere! Mettete a verbale Ragioniere! E mettete pure a verbale Stiamo a struppere mazza Guardate che succede guarda la cucina C'è le facciole la cucina La cucina La cucina Bambini A misura La cucina Ma 3 euro Mi gusta la cucina e vedrete che anche per la spesa resterete molto soddisfatti si si perchè qua si mangia pure e siccome cucino io la cucina a casa reccia è buonissima e non spendete molto ma la cucina è dietetica dietetica? ma che dici chissà dietetica? ti preoccupo facciamo due patane scaurati ah buono ma con gli struzzi fammi ehi donna Lucia è la reggina della cucina grazie donna male grazie ma io non ho fatto le sue mani e ora non per chi? non c'è nessuno paventato avete sbagliato il palazzo scusa ma tu non mi hai detto che lavoravi nella finanziaria? ma come non aveva fatto questa finanziaria? ma allora sei ottuso finanza finanza ma come tu mi avevo detto che a chi si prestava i soldi? ma io così mi credevo e che siete? sono un agente delle tasse vi presento ispettore Gargiuno della guardia di finanza sezione tributaria tasse ma allora siete voi lo scassatasse non lui piacere eeeh non credo sia un piacere perchè adesso devo fare un rapporto dettagliato di tutto quello che ho saputo voglio me lo fare un piacere io non tengo manca po' si ma tu che fa? faccio tutto cosa per te che fa? sputo non faccio tutto a me eeeh non eeeh non eeeh non eeeh non